Buongiorno, nel contributo di quest'oggi parleremo di uno dei grandi registi francesi degli ultimi 40 anni, ossia Bertrand Tavernier, e di uno dei suoi film migliori che è La morte in diretta, del 1980. Bertrand Tavernier è sicuramente uno dei registi più portanti del cinema francese degli ultimi decenni, almeno a partire dagli anni 70 in poi. Ho deciso di fare un contributo dedicato proprio a questo regista che purtroppo quest'anno ci ha lasciato, proprio a marzo di quest'anno il nostro Tavernier è passato a miglior vita. Un regista che esordì, inizialmente cominciò a collaborare negli anni 60 come assistente alla regia dei grandi maestri della Nouvelle Vague, da Godard a Truffaut, a tutti gli altri grandi ovviamente cineasti di quel periodo, e che poi esordì, fece il suo esordio cinematografico proprio negli anni 70, lo ricordiamo in pellicole straordinarie come Il giudice e l'assassino del 1976 con il grandissimo Philippe Noiré, uno dei grandi attori francesi, oppure pellicole indimenticabili come Una domenica in campagna del 1984, ecco che forse il suo film è più conosciuto, dato che se non sbaglio vinse anche l'Oscar come miglior film straniero, film veramente che vanta di una fotografia, di una regia veramente ai livelli dei grandi maestri come Tarkovsky o Bergman. Ma in questo caso invece commenteremo un film che a mio parere non è forse il suo capolavoro, ma probabilmente è forse il film più attuale, più profetico anche per certi versi che il grande maestro francese ha girato, che è appunto La Morte in diretta, Death Watch, che tra l'altro non venne neanche girato in Francia ma in Scozia, che vanta un cast veramente notevole con attori come Romy Schneider nella parte della protagonista, il grandissimo Harvey Keitel, Henry Dean Stanton anche, oppure uno straordinario Max von Sydow, come al solito che in qualsiasi pellicola dove il nostro grande attore svedese compare, da sempre il suo in maniera eccezionale. Perché appunto parlare di questo film? Purtroppo è un film neanche tanto facilmente reperibile, è un po' difficile da recuperare, però chiaramente oggi con i mezzi che ci sono da Amazon, Ebay, eccetera, si possono, diciamo che quasi tutto in qualche modo si riesce a trovare per chi abbia un po' di buona volontà, e soprattutto voglia di vedere il film. Già il titolo per certi versi è estremamente significativo. La Morte in diretta, infatti, di che cosa tratta questa pellicola? È la storia di questa donna, appunto la nostra Romy Schneider, che purtroppo scopre di essere malata, di una malattia, probabilmente un tumore, anche se non viene ben specificato nel film, e le rimangono praticamente pochi mesi di vita, soltanto un paio di mesi. Il suo medico è d'accordo con un network, con un'emittente televisiva, con un network televisivo, la nostra NTV, come viene chiamato questo canale, che hanno ideato un programma che si intitola appunto La Morte in diretta, dove lei è stata scelta, è stata appunto selezionata tra i diversi potenziali candidati, un programma dove il soggetto che viene scelto da questa fantomatica giuria, chiamiamola in questo modo, riceverà poi ovviamente una somma di denaro, una discreta somma di denaro, per potersi far riprendere negli ultimi mesi della sua vita. Quindi un'emittente televisiva che decide di mandare in onda questo programma, appunto intitolato La Morte in diretta, dove il protagonista, il soggetto, viene ripreso costantemente 24 ore su 24 negli ultimi momenti della sua vita, dal momento in cui decidono di incidare fino alla morte. fino a sopraggiungere proprio della morte. Lei inizialmente si oppone completamente a questa decisione, anche perché era stata scelta senza che neanche lo sapesse che c'era questa possibile candidatura. Però ovviamente dal momento che si trova in una situazione economica abbastanza precaria, anche e soprattutto per via del marito, decidono di accettare questa proposta. Di accettare la proposta ci sarà appunto il nostro Harvey Keitel, che è incaricato di seguirla e di riprenderla costantemente durante tutta la vicenda, durante gli ultimi mesi che le rimangono da vivere. La trama del film è più o meno tutta questa, anche perché non voglio stare qui a rivelare altre cose, altri particolari per chi voglia vedere una pellicola che, come ti hanno detto, all'epoca ebbe anche un grande successo, soprattutto in Francia, ma che purtroppo oggi non è molto ricordata e soprattutto magari molte persone non avranno visto. Già è fatto interessantissimo che il nostro Tavernier, infatti il film fu proprio scritto e diretto anche dal nostro regista, un aspetto interessante che ci vuole sottolineare l'autore, in questo anche cambiamento che avviene all'interno delle società contemporanee, è un cambiamento che sopraggiunge proprio verso gli inizi degli anni Ottanta, tra gli anni Settanta e Ottanta, in cui la televisione, i cosiddetti mezzi di comunicazione, diventano ormai paradigmi essenziali nella vita di qualsiasi persona, dove ormai la televisione la troviamo praticamente in qualsiasi casa di qualunque persona del mondo, atto che infatti lei nel momento in cui viene scelta come candidata, come protagonista di questo nuovo programma, improvvisamente diventa famosa, non può andare più da nessuna parte perché tutti la riconoscono e le cominciano a chiedere addirittura anche gli autografi, il che è anche paradossale dal momento che si tratta di una persona che sta morendo. Infatti lei tutto questo poi cerca anche di rifugirlo, di voler morire da sola, di essere lasciata in pace, ecco dalle telecamere, tutta questa intrusività che improvvisamente si abbatte sulla sua esistenza. Tra l'altro, piccola glossa, il film è ancora più toccante da un certo punto di vista, se consideriamo che la nostra Romy Schneider, la nostra protagonista, all'epoca era veramente malata, credo proprio di un tumore, purtroppo poi ci lascerà dopo qualche anno, infatti poi l'attrice è morta proprio nel 1982, un paio d'anni dopo l'uscita di questo film, quindi è veramente anche interessante anche da questo punto di vista. Una televisione che non diventa più un luogo, appunto un mezzo come poteva essere fino agli anni 50, 60, come era più o meno la radio, un mezzo che serviva essenzialmente per dare le notizie, per informare i cittadini, per far conoscere quelli che erano gli avvenimenti del mondo, più o meno, ma diventa in realtà un mezzo che serve anche ad altro, che serve soprattutto a creare distrazione, a creare nuove forme mentis, uno strumento che ha lo scopo non soltanto quindi di incrementare i fatturati, perché infatti come dice anche il nostro Eridin Stanton, che fa appunto il produttore di questo programma, diciamo il direttore anche di questo network televisivo, qualsiasi argomento è interessante, l'importante è che poi l'audience se lo guarda, ovviamente che ci sia un'alta percentuale di telespettatori, quindi qualsiasi cosa può avere interesse, l'importante è che poi c'è il ricavato economico. E questo come possiamo a non ritrovarlo ovviamente, tutta questa concezione ormai dove tutto viene in qualche modo mercificato, la vita, la morte, la malattia, le disgrazie, nell'epoca odierna, dove su qualsiasi cosa, mi sembra quasi inutile stare qui a sottolinearlo, su qualunque cosa, la stampa, i media, i cosiddetti strumenti di comunicazione, più che altro di disinformazione, vivono letteralmente ormai per monopolizzare l'attenzione delle masse su determinate tematiche, per spremere fatturati da qualsiasi circostanza, come degli avvoltoi spietati che si aggirano lì nel cielo, pronti subito a ripulire qualsiasi carcassa. Il nostro tabernia infatti ci illustra anche la follia di un sistema dove ormai persino la morte, che dovrebbe essere vissuta come qualcosa di estremamente privato, come qualcosa di sagro anche nell'individuo, qualcosa che bisogna affrontare in compagnia dei nostri cari, ma soprattutto da soli anche, dato che è il momento forse più importante di tutta la nostra vita, improvvisamente anche sulla morte, anche la morte diventa una tematica, un tema da cui bisogna ovviamente ricavare qualcosa. Non è un caso infatti che nell'epoca odierna noi ormai siamo rimasti completamente indifferenti, diventati in presenza della morte degli altri, non ci fa più nessun caso. Questo perché? Perché siamo più egoisti? Beh, può darsi, ma semplicemente il fatto è che ormai siamo stati dalmente a suoi fatti, da notiziari, da giornali, da televisioni, che parlano costantemente della morte notte e giorno, che ormai la morte degli altri non ci fa più nessuna, non ci colpisce più, restiamo assolutamente indifferenti. Il non avere quindi più rispetto verso nulla, la mancanza di rispetto e di tatto d'altronde, sono proprio le componenti che più di tutte caratterizzano anche la nostra epoca. Pensiamo al fatto che oggi qualunque tragedia viene tranquillamente mercificata, viene strumentalizzata, viene utilizzata sempre per fini ideologici. Queste sono alcune componenti che indubbiamente la pellicola di Bertrand Tavernier cerca di sottolineare, cerca di illustrare, così come anche l'utilizzo distorto che viene fatto ormai dei cosiddetti mezzi di comunicazione, che non hanno più quindi lo scopo di effettivamente portare le notizie, far conoscere quello che avviene ai cittadini, informarli, tenerli aggiornati sulle situazioni del mondo, ma al contrario, hanno in prevalenza ormai lo scopo di distrarli, di rimbambirli, potremmo dire, di non farli pensare, di fargli spegnere il cervello. D'altronde questa necessità anche di guardare la vita degli altri, questo voyeurismo che ormai si è impadronito nella mentalità di molti, che possiamo ritrovarla anche nel fenomeno dei reality show, pensiamo al Grande Fratello, a tutta la moda che poi era stata inaugurata con tutte le cosiddette, con tutti i reality, che poi sono stati fatti nel corso di questi ultimi decenni, questa malattia di guardare la vita degli altri poi senza guardare la nostra vita, perché infatti a forza di guardare la vita altrui si finisce per non vivere più noi. Questo è anche un altro aspetto importantissimo che questa pellicola riesce ad evocare. Per questo io consiglio di andare a recuperare questa pellicola di Bertrand Tavernier, La morte in diretta, un film che oggi ha più di 40 anni, un film che assolutamente rimane profetico, tristemente, proprio per questa considerazione che fa su quello che sono diventati i mezzi di informazione, i cosiddetti mezzi di informazione. Ed è per questa ragione quindi che io consiglio ovviamente di recuperare questa pellicola in onore appunto di Bertrand Tavernier, un regista, come abbiamo detto, che quest'anno purtroppo ci ha lasciato e che ritengo sia assolutamente un film importantissimo, sicuramente tra i film più belli, indubbiamente, degli anni Ottanta, un film da andare a recuperare e che, come vediamo, ci può illustrare anche una grande panoramica su quella che è diventata anche la cosiddetta società odierna. Grazie. Grazie.